L'emergenza sanitaria ci ha insegnato a non sottovalutare i nemici invisibili. Dopo il lockdown di oltre due mesi, alcuni hanno ricominciato a lavorare e tanti altri sono ancora alle prese con la riapertura. Ma per farlo nel modo più sicuro possibile è necessario sanificare tutti gli ambienti ed evitare il rischio di contagio. Continuano e crescono infatti le richieste alle ditte specializzate. In merito però si è creata un po' di confusione, in particolare sulle tecniche in grado di annullare la carica virale. Per quella ad ozono, ad esempio, non ci sono evidenze scientifiche che possa svolgere una funzione sterilizzante. Per quanto riguarda le sanificazioni, il Ministero della Salute riconosce l'ipoclorito di sodio, l'etanolo e il perossido di idrogeno. Mentre i primi due possono essere usati solo in stato liquido, l'unico che può essere usato anche gassoso è il perossido di idrogeno. E questo macchinario, tramite un brevetto dalla NASA, produce perossido di idrogeno. Questo strumento certificato dalla Space Foundation, grazie a una combinazione di tecnologie, purifica l'aria e le superfici, imprigiona le microparticelle e neutralizza cattivi odori, allergeni, fumo, virus e batteri. Fattori che insieme a muffe e polveri sottili possono condizionare la qualità della vita. Questo macchinario dà la garanzia, dalle prove che abbiamo fatto in laboratorio e universitarie, che in meno di 24 ore abbatte il 99,99% di tutti i virus, i cov, le muffe, i pollini, le polvi, le micropolle, tira via tutto. Le persone possono rimanere all'interno della stanza? È l'unica macchina che sanifica 24 su 24, 7 giorni su 7, perché non arreca danni a esseri umani e animali. Quindi, mentre tutte le altre sanificazioni, una volta fatte, bisogna arreare i locali, ci vuole il tempo, ok? E più ci sono anche prodotti che sono molto pericolosi e nocivi per gli esseri umani, quindi attenzione. Questo macchinario invece non ha nessun tipo di... E infatti è riconosciuto dal Ministero della Salute come presidio medico di classe 1. È una macchina che ha bassissimo consumo, ha una garanzia infinita, non ha problematiche, non fa nessun tipo di rumore, fa solamente si sente appena appena l'aria circolare e cambia l'aria nelle stanze circa 7 volte all'ora. Il macchinario viene utilizzato non solo in abitazioni, uffici e negozi, ma anche in ospedale. Il reparto di pediatria del Santa Croce è stato il primo nosocomio marchigiano ad utilizzarlo, grazie a una donazione dell'Associazione Maruzza. Forse eravamo stati preveggenti perché abbiamo donato questo apparecchio a tutela dei bambini, anzi è un consiglio che io vorrei dare anche alla nostra amministrazione comunale, di cominciare a metterlo negli asili e nelle scuole perché il CRN ha documentato che nelle scuole, negli asili dove è presente questo apparecchio, le assenze dei bambini sono calate del 700%. Fano, città dei bambini, dovrebbe tutelare al massimo la salute dei nostri bambini. In questo momento con decreto ministeriale questo apparecchio viene detratto al 60% della spesa imponibile, quindi l'IVA non bisogna dichiararla perché tanto va in detrazione e come tale, quindi anche un grosso vantaggio economico per chi lo deve acquistare. Lorena, perché nella vostra scuola di danza avete optato per questo tipo di sanificazione? Ci siamo interessati e informati e abbiamo previsto che questo macchinario forse è il più valido per la nostra tuttura in quanto noi abbiamo bambine sia dai 3 anni fino a ragazze di 30 e più signore che fanno pilates e altre attività, ma dovendo lavorare dalle 2 del pomeriggio fino alla sera abbiamo pensato a questo macchinario perché questo continuamente acceso ci fa lavorare in sicurezza e quindi siamo tranquilli per la salute di tutti. Grazie a tutti.